Come funziona lo stripping, stripping inteso come drop set, quindi la tecnica di intensità. Abbiamo infatti già parlato del cluster set e oggi in questo video cerchiamo di capire come funziona lo stripping e soprattutto perché viene utilizzato, qual è lo scopo, perché dobbiamo inserire questa tecnica. Piccolo cappello iniziale, quando noi inseriamo delle tecniche di intensità infatti non è che dobbiamo inserirle per aumentare l'intensità, per spingere di più, ma le tecniche hanno ciascuna una specifica logica e quello che dobbiamo fare noi è assecondare quella logica, quindi inserire la tecnica laddove deve stare, quindi nel giusto contesto. Quindi parleremo di stripping oggi, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi qua al canale, cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Siete in tantissimi che ci seguono, meno quelli che si iscrivono, quindi ricordatevi di iscrivervi. A voi non costa niente, ma ci date una mano veramente importantissima. Ora, drop set stripping. Innanzitutto, che cos'è lo stripping? È una tecnica che prevede di dividere la nostra serie in cluster sempre, però la differenza rispetto a un cluster set è che ogni cluster avrà un carico via via sempre minore. Infatti io quando raggiungo il cedimento con un carico non riesco più a fare altre ripetizioni, però quello che posso fare per continuare è abbassare il carico, perché se abbasso il carico riesco a fare ancora altre ripetizioni. Lo stripping si basa su questo sostanzialmente, quindi arrivo al cedimento. Idealmente poi non è detto che io debba toccare il cedimento, come anche nei cluster set possono esserci tutti i failure point a ogni cluster, come anche soltanto alla fine. Però, generalmente, arrivo al cedimento, abbasso il carico, diminuisco, quindi strippo il carico, riparto, ridopo il cedimento, abbasso il carico, diminuisco, riparto, eccetera. E posso farlo quante volte voglio. Ovviamente si fanno una o due volte, ma c'è anche il triplo drop set, quadruplo drop set, quintuplo, come il Kaio Ken, puoi farlo per 10, per 20, insomma, puoi farlo quante volte vuoi. Quindi questo è un po' il funzionamento dello stripping. Innanzitutto, quali sono le diverse cose che possiamo fare? Come detto, la prima cosa che possiamo fare è aumentare il numero di drop, quindi di diminuzione di carico che noi faremo, quindi posso farlo una sola volta, due volte, tre volte, eccetera, eccetera. Quindi questa è una prima manovra che posso fare. Una seconda manovra che posso inserire è scegliere, come detto, il numero di cedimento. Quindi io posso sia arrivare a cedimento e strippare, sia anche fermarmi prima del cedimento, quindi arrivo a fare, non so, a tenere due reps in reserve, qualcosa del genere, sono venuto al basso, diminuisco il carico e riparto. Nulla mi vieta di fare anche questo. È poco utilizzato per lo stripping perché, come vedremo, non ha molto senso, però si può fare. E l'altra cosa è giocare sul recupero, perché nulla vieta che, nel momento in cui raggiungo il cedimento, per esempio, con un 8RM, quindi un carico veramente impegnativo, faccio 8 ripetizioni, raggiungo il cedimento, abbasso, strippo, magari su compound importanti che mi richiedono anche molto fiato, mi prendo un 10, 15, 20 secondi di recupero. Quindi capiamo che la differenza principale tra i cluster set e il drop set, quindi lo stripping, è semplicemente che, nello stripping, nei cluster successivi, io avrò carichi via via sempre più bassi. Questo è il punto. Per il resto ci sono tutte le manovre, tutte le modifiche, tutte le elasticità che noi possiamo utilizzare nel cluster, la ritroviamo anche nello stripping. Ma allora, perché si utilizza? Qual è la logica? Perché scelgo di utilizzare carichi inferiori? È molto simile al discorso del cluster set che abbiamo fatto. Ossia, nel cluster abbiamo detto che la logica è quella di aumentare le effective reps. Nello stripping è esattamente la stessa cosa. Vi faccio un esempio per capire bene. Immaginiamo di dover fare una serie da 8, con un 8 RM, con 100 kg, ok? Accedimento. E poi una serie con 80 kg e una serie con 60 kg. C'ho tre serie. Va da accedimento su tutte le serie, ovviamente per ogni serie, riposando tra le serie, ovviamente per ogni serie avrò una componente di ripetizioni, di accumulo, di fatica, e una componente delle ultime ripetizioni, le effective reps. Se non sai cosa sono le effective reps, segui il canale, perché ne abbiamo parlato molto spesso, quindi ricorda di seguire tutto quanto. Quindi le ultime ripetizioni vicino al cedimento sono quelle che creano ipertrofia, appunto le effective reps. La seconda serie, di nuovo, inizierò però a delle ripetizioni semplici, di accumulo di fatica, e poi solo alle ultime saranno le effective reps, le ripetizioni che creano ipertrofia. E così anche la terza serie con i 60 kg. Quindi in questo esempio abbiamo tot ripetizioni totali e tot effective reps. Come abbiamo detto, nel momento in cui l'atleta inizia a diventare avanzato, abbiamo dei fattori delimitanti che sono il recupero. Cioè un atleta avanzato ha un problema principale che per quanto sia semplice, tra virgolette, ancora stimolare, il collo di bottiglia è il recupero. Perché? Perché tutto quello che fa in sala è molto più di impatto, perché avendo anche tanta ansianità di allenamento, vuol dire tanti anni in cui la struttura muscolare, ma soprattutto la struttura tendina e legamentosa, è stata sottoposta a carichi, quindi è un po' più affaticata, e logicamente tanti anni di allenamento vuol dire anche tanti anni in più. Se ho 10 anni di allenamento, verosimilmente so più verso i 30 che verso i 20. Quindi per tutti questi motivi il recupero è il fattore limitante, per cui man mano che l'atleta diventa avanzato, sarà più conveniente fare cosa? Voler mantenere quelle porzioni di effective reps, perché come detto sono le ripetizioni che mi causano, che mi permettono di creare ipertrofia, quindi rappresentano per me il mio stimolo, e togliere tutto il resto, quindi le ripetizioni in questo caso di accumulo e fatica. Allora cosa posso fare? Faccio la mia prima serie con i 100 kg, vado al cedimento, avrò la prima porzione di reps di accumulo e fatica, e le ultime sono le effective reps. A questo punto diminuisco subito il carico, volendo mi prendo 5, 10, 15 secondi di recupero, e parto subito. Chiuderò soltanto 3, 4 reps, ma saranno le ripetizioni efficaci, saranno solo le effective reps, perché tutta quella componente di ripetizioni di accumulo e fatica io l'ho sostituita con il primo set che ho fatto, in questo caso il primo cluster. E lo stesso gioco, una volta che ho toccato il cedimento, vado a 60 kg, quindi scendo ulteriormente, e mi prendo 5, 10 secondi di recupero, farò quante più reps possibili, che saranno di nuovo poche, perché sono affaticato, ma io sto sfruttando la fatica generata inizialmente, per sostituirla alle altre ripetizioni di fatica. Quindi sostanzialmente ho esattamente lo stesso scenario, ma ho molte meno ripetizioni, quali? Ripetizioni di accumulo e di fatica, che io ho sostituito, semplicemente mettendo meno tempo di recupero tra i set, e facendoli diventare da 3 serie, a un'unica serie, composta da 3 cluster, che diminuendo il carico diventa un drop set, quindi una serie di stripping. Questa è bene o male la logica di lavoro, quindi ho le stesse logiche dietro il cluster set, ma con la differenza del carico, e di nuovo questa differenza del carico che cos'è? Beh, l'abbiamo dito in diversi video. Io nel bodybuilding, per semplificare, posso identificare ciascun carico, orientativamente non preciso al mezzo chilo di differenza, però generalmente ciascun carico, ha uno stimolo differente, quindi non avrò un unico stimolo nel bodybuilding, ma ci sono diversi stimoli. Perché questo? Perché l'architettura muscolare è differente, è molto varia. Esiste, di nuovo, sarcoplasma, miofibrilla, glicogeno, storage di glicogeno muscolare, imate, eccetera, eccetera, ne abbiamo già parlato in altri video. Però, essendo un'architettura muscolare diversa, io sostanzialmente ogni carico che utilizzo mi porta a un profilo stimolatorio differente. Quindi noi vogliamo un'ipertrofia nel bodybuilding quanto più completa possibile. Anche i meccanismi di adattamento ipertrofico ce ne sono di più importanti, quindi la tensione meccanica, per esempio, rispetto a quello che è un danno muscolare, che in realtà è una conseguenza, ma gioca un suo ruolo accessorio, allo stress metabolico, che di nuovo gioca un ruolo accessorio, però sono due stimoli che effettivamente portano a un qualcosa di diverso rispetto a la tensione meccanica pura o rispetto semplicemente a carichi più bassi. Quindi, per queste ragioni, nel momento in cui, la differenza che faccio per semplificare è che il cluster set serve a enfatizzare un dato stimolo, quindi per esempio ho un esercizio che sento molto bene con un carico che percepisco molto bene, quindi uno stimolo sul quale mi conviene spendere un qualcosa in più, come soldi che vado al supermercato, qualcosa in più, allora vado a utilizzare un cluster set, viceversa il drop set mi serve quando io voglio differenziare nella maniera più efficiente possibile il mio profilo stimolatorio su un dato esercizio. Quindi un po' come a dire, io il mio cluster set lo utilizzo andando al supermercato, nel momento in cui io vedo che c'è un ingrediente che mi piace particolarmente, un cibo che mi piace particolarmente, ci spendo un po' più di soldi. I miei soldi sono limitati, quindi ci spendo un po' più per quell'ingrediente, per gli altri spendo normalmente, nel drop set vado a differenziare, quindi inseriscono diversi ingredienti, magari in un bundle, prendi due, paghi uno. Quindi più o meno questo è il discorso di base, alla base dello stripping. Quindi realmente va utilizzato quando io parto da una programmazione con un volume standard, ho ancora energia, allora dico ok perfetto, posso aumentare qualcosina. E parliamo di atleti avanzati, perché atleti intermedi possiamo anche aumentare i seri allenanti. Io voglio aumentare qualcosina, inserisco un cluster, inserisco un altro cluster. In questo esercizio, qua mi conviene differenziare lo stimolo. Perché? Perché magari ho una sola serie con un certo stimolo e mi conviene utilizzare un drop per aumentare il profilo stimolatorio di questo esercizio. Ok? Mentre magari il cluster lo inserisco quando? Quando ho due serie. Cioè ho un loading set, un back off, sul back off inserisco il cluster o il loading set. Però poi realmente, questi sono esempi, si può fare veramente di tutto. L'importante è capire sempre la logica. Su un esercizio vale la pena investire sullo stesso stimolo o differenziare? Quando vogliamo differenziare e la realtà, ragazzi, la capite molto da un punto di vista di feeling, cioè come sentite in sala. Ci sono certi esercizi che con un drop set dico cavolo, io ho fatto un drop set e ogni volta che sono sceso, sono sceso, sono sceso, lo sento sempre meglio. E lo sento sempre bene. È una tecnica che mi funziona. Ok? Quindi togliamo la parte brain nerd dall'equazione, ma realmente le cose le inserite nel momento in cui lo sentite. Insomma, lo stripping, per esempio, su molti distretti muscolari, su molti esercizi, non lo sentite bene, perché nel momento in cui io vado a forzare in questo modo che diminuisco il carico, ad un certo punto inizio a sentire molti muscoli accessori, perdo di stabilità, questo succede ogni tanto su delle machine flies, per esempio, su delle croci, qui c'è un intervento stabilizzatorio molto più importante, oppure può succedere su un dorso, in molti esercizi per il dorso, quindi molto attenti a questo tipo di discorso qua. Questo è tutto per quanto riguarda lo stripping, io ci tengo soltanto a fare un'ultima conclusione, il discorso dell'attivazione delle unità motorie del firing rate, ossia molto spesso si dice lo stripping è stupido e inutile di qua e di là perché arrivo a carichi molto bassi in cui poi non ho un'attivazione massiccia delle unità motorie. Ora, in realtà, quello che si è visto è che l'attivazione delle unità motorie, la soglia di attivazione, innanzitutto è una soglia che si basa in Newton, quindi è un valore assoluto. Se io sono un atleta forte al mio ultimo drop, è comunque un carico molto importante, quindi in questo caso non devo preoccuparmi di quale unità motorie attivo perché interverranno meno male tutte, ma nel momento in cui io raggiungo il cedimento la soglia di attivazione delle unità motorie si abbassa, quindi tutto quello che ci porta a lavorare al cedimento è un qualcosa che da un punto di vista ipertrofico è quasi a prescindere ottimale, quasi, attenzione, però tutte queste paranoie mentali non ci devono essere perché in questo caso il nostro corpo utilizza tutto quello che è in gioco per permetterci di continuare. La difficoltà che si riscontra è che bisogna riuscire ad arrivare al cedimento e allenarsi al cedimento, cosa che la maggior parte dei studi soggetti non sono in grado di fare, ma questo è un altro capito. Ragazzi, qualsiasi dubbio qua sotto in descrizione ricordatevi di seguirci su Instagram, ci sono tutti i link qua sotto ludovico.lemme e vi aspetto al prossimo video. Niente, ciao.